Sabato a Sassari L'Angioedema Day. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e creare attenzioni nei riguardi dell'angioedema ereditario, malattia che viene gestita da diverse figure specialistiche, fra cui allergologi, immunologi e internisti. Nasce con questo obiettivo la prima edizione nazionale dell'Angioedema Day, organizzata dal network Itaca in collaborazione con le associazioni dei pazienti, che si svolgerà il 21 maggio in coincidenza con la giornata mondiale dell'angioedema. A Sassari il centro di riferimento della rete Itaca per questa patologia è la struttura di malattie della coagulazione dell'Ao di Sassari, diretta dalla dottoressa Lucia Anna Mameli. La struttura al secondo piano del Parazzo Rosa in via Montegrappa ha al suo interno l'ambulatorio di malattie rare e angioedema ereditario, coordinato dalla dottoressa Luisa Fenu. L'angioedema ereditario è una malattia rara, caratterizzata dalla comparsa di gonfiori improvvisi della cute, delle mucose e degli organi interni. Questi gonfiori possono essere anche fatali in alcuni casi per il pericolo di soffocamento nel caso di comparsa di edema nella glottide se non si interviene tempestivamente. Oggi anche i pazienti del Nord Sardegna possono contare sulle terapie più innovative, in linea con le direttive internazionali, afferma la dottoressa Mameli. E questo anche grazie a un'attiva collaborazione con la farmacia ospedaliera, sensibile ai nuovi approcci terapeutici. Da anni è forte anche la collaborazione con il pronto soccorso, aggiunge la dottoressa Fenu, soprattutto per l'utilizzo di farmaci, come veri e propri antidoti in caso di emergenza da usare per angioedemi di sospetta natura rara. In occasione della giornata del 21 maggio i pazienti potranno accedere all'ambulatorio senza appuntamento dalle ore 9 alle ore 12. L'accesso alla struttura del Palazzo Rosa avviene dal primo sottopiano di via Padre Manzella con mascherina e controllo Green Pass secondo direttive aziendali. Il centro è a disposizione al numero 079 20 61 180 dalle ore 12 e 30 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.